Ciao a tutti sono Candide e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video vi voglio presentare il mio ultimo kit Margherita che ho disegnato. Ho deciso di utilizzare la Margherita dal momento che avevo chiesto consiglio a voi durante la presentazione del kit precedente, chiedendo appunto di propormi dei fiori perché volevo fare un po' di carte, visto che andiamo verso la primavera, dedicate ogni carta a qualche fiore specifico. In questo caso ho deciso di fare la Margherita. Questo è un kit, le tonalità sono quelle dell'avorio e del giallo e poi così mi è piaciuta l'idea di utilizzare le Margherite come in questo caso ma lasciandole solo disegnate di nero. Io lo trovo molto fine ed elegante, voi ditemi quello che ne pensate, volevo fare una cosa un pochino diversa e ho deciso di fare così. Allora, questo è il primo foglio, poi vedete ho creato questo foglio con questi rombi nel quale poi all'interno si intravedono le Margherite. Questo che è l'unico foglio un pochino più con queste Margherite che sono proprio così evidenti dove ho voluto aggiungere queste postcard, una busta con la Margherita sotto e lo sfondo ci sono delle scritte dei Poix. Poi qui abbiamo una base neutra con le farfalle che ormai avrete capito che a me piacciono un sacco. Il colore vedete è molto caldo e si presta secondo me sia agli album che ai John Journal, è molto bello. Qui ho creato un mix tra Margherite che ho disegnato e quelle solo stilizzate di nero di cui vi parlavo prima. Ho fatto delle carte a sfondo neutro, diciamo, senza disegni, da abbinare con le altre perché negli album trovo che sia molto bello poter alternare. Qui vedete la carta di prima con lo sfondo a rombi dove ho inserito le Margherite che chiaramente, tra l'altro, Margherite che poi si possono ritagliare e ho fatto anche in modo di fare dei disegni che poi si possono ritagliare e utilizzare come particolari, chiaramente. Questa è un'altra base un po' sul neutro con i po' a e questi disegni damascati sul giallo ocra. Qui ho lasciato solo la base a po' a e ho aggiunto, ci sono anche delle scritte, così vedete, con le Margherite stilizzate nere. Sono 12 fogli, non vorrei sbagliare ma direi di no, sono 12 fogli. Questa è la base farfalle con le decorazioni e qui ho voluto mettere delle parti, vedete ci sono delle righe per poter scrivere, quindi da ritagliare, da utilizzare come foglio, come preferite. Ho voluto veramente aggiungere così dei particolari e poi ho fatto un foglio solo dove ho messo quattro pagine ridotte ma ho messo queste pagine nello specifico perché volevo che aveste la possibilità di avere dei disegni più piccolini eventualmente da ritagliare e da utilizzare come abbellimenti e poi trovate anche questo kit, diciamo, di etichette, vedete, sono vuote, in varie forme dove ho ancora messo dei fiori da ritagliare e anche questi medaglioni da utilizzare come abbellimento. Quindi questo è il mio ultimo kit Margherita, spero che vi piaccia, aspetto i commenti, fatemi sapere e ben presto lo vedrete utilizzato da me e sicuramente anch'io lo vedrò utilizzato da voi perché siete bravissime, anzi, delle volte riuscite a fare i lavori ancora prima del mio, cioè ancora prima di me che magari sono impegnata in altre cose e non riesco ad utilizzare subito appieno i vari kit. Il video di oggi è stato brevissimo, non vi rubo più tempo, come al solito auguro buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Un bacione e ciao!